Il telegiornale delle 13 Che cosa può fare una ragioniera come me che abbia amore per il bello? Io alla fine mi sono risposta, l'estetista. Che cosa sono il fard, l'ombretto, la lampada e il trucco permanente? Sono attrezzi per il bello. Giorno, giorni fa è venuta a casa mia una giornalista che conduce il telegiornale delle 13. L'ho truccata come se in onda ci dovessi andare io. Che cosa è questo? Amore per il mio lavoro o amore per chi ha bisogno del mio lavoro? Sinceramente non so rispondere. Commento. L'amore per il bello è un'acquisizione che ci portiamo dietro da vite precedenti, così come la predilezione per un'arte è dettata dalla nostra memoria evolutiva. Questo significa che se un individuo è stato ad esempio culturalmente molto attivo nell'Ottocento, prediligerà un certo tipo di cultura, mentre se lo è stato nel Quattrocento ne prediligerà un altro. Così, se in una vita precedente il suo interesse era di contemplare la realtà attraverso la musica, nella vita attuale prediligerà la musica rispetto alla vittura o alla scultura. Ancora, se un artista sente che il messaggio che vuole dare è in sintonia con un determinato artista, quella sintonia è provocata da una comunanza nel sentire dei due artisti. Questa comunanza provoca una simpatia e quindi un sentire insieme. Per lo stesso motivo, prediligiamo un autore piuttosto che un altro. !